Nella giornata di ieri Papa Francesco al Regina Celi ha ricordato con gratitudine e affetto tutte le mamme del mondo, in particolare quelle che ci accompagnano dal cielo. Il Vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, ha invece visitato in forma privata la comunità di Naso, mandando un saluto ed una benedizione attraverso un videomessaggio. Mi rivolgo attraverso questo messaggio un saluto e una benedizione a tutta la comunità di Naso. Oggi sono venuto ad incontrare i sacerdoti, il diacono, i seminaristi di questa comunità per vivere un momento di comunione e di fraternità. E incontrando loro ho pensato a tutti voi, cari fedeli di questa comunità. In questo mese dedicato alla Vergine Santa prego per tutti voi e chiedo l'intercessione della Madonna, perché nelle vostre famiglie possa realizzarsi tutto il bene che il vostro cuore desidera. E con affetto paterno vi benedico di cuore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.